Allora, la mappa dice di andare, credo, di qui, oh mio Dio, non ci capisco molto, Fere, sono un pochettino confuso, devo essere sincero Anch'io, Steph, non so neanche che stiamo facendo, quello che dobbiamo fare qui oggi Allora, ti spiego brevemente, l'assistente segreto mi ha detto che esiste una città fatta di diamanti in mezzo al cielo Ma non è vero, Steph, è impossibile, dai, non si è mai sentita una roba del genere È quello che gli ha detto, infatti mi sono messo a ridere, allora lui mi ha detto questa mappa e mi ha detto Ok, allora, se non ci credi, segui questa mappa e vai a vedere con i tuoi stessi occhi E quindi io, Fere, sto seguendo questa mappa e tu sei seguendo a me che seguo la mappa, senza sapere che io seguivo la mappa Quindi, adesso, è un po' un disastro questo, insomma, effettivamente, io vedo qualcosa di bianco in questa mappa molto strana Non so, vedi, vedi, la vedi anche tu, vedi che c'è questa striscia bianca qua nella mappa un po' particolare Ed è sopra di noi Ma, Steph, sono delle scale Effettivamente sembra una scalinata che va in alto Ma, Steph Non vuol dire nulla, Fere, l'avrei potuto fare, anche io ti avrei detto, Fere, esiste una città lì, faccio le scale E tu fai, cavolo, ma era vero Può essere anche un imbroglio, magari alla fine della scala c'è una trappola che ci uccide, Steph Esattamente, secondo me l'assistente segreto non può essere così bravo da costruire una città che vola ed è fatta i diamanti Quindi, segui a... Quella è un'isola che vola Steph, che sta succedendo? Ebbene, vo... Cioè, si sono spostate le nuvole, ho visto questo ammasso di isole giganti Allora... Cioè, di isola gigante Allora... Eh, vabbè Per adesso seguiamo la scalinata Che facciamo, andiamo, ormai Beh, sì, ormai sì È come un pizzico di curiosità, comunque te la suscita Allora, se mi andate in gita in posti dove tipo c'erano 2542 scalini Ti è mai capitato? No, per fortuna Davvero? Sì C'è pure in Sardegna un posto dove tipo c'erano 790, una roba del genere Evidentemente se ci sono stata non me lo ricordo più, Steph Magari è stata un'esperienza talmente brutta Guarda, ero piccolo ma me lo ricordo ancora bene Comunque, è come una di quelle volte in cui devi fare un botto di scalini Nei commenti di tutti quelli che hanno fatto scalini E quanti scalini avete fatto per andare a vedere un certo templio, monumento, eccetera, eccetera Comunque, iniziamo a salire Io credo che sta roba sia tipo mille scalini Per fortuna che su Minecraft non è così pesante No, infatti, anzi Nella vita reale sarei già stesa col fiatone in questo momento Stiamo per andare oltre le nuvole con questa scalinata Guarda, 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 guarda Guarda, le stiamo superando, Steph Oh mio Dio Oh, non finisce più Siamo in altino, eh Cioè, oh cavolo, Steph Ma perché mi sono guardata dietro? Già Continua a salire, Ferre Stavo dicendo, su Minecraft sono più semplici Ma queste sono davvero infinite Le finite? Ferre Andiamo avanti, andiamo avanti Allora, Steph Fluta, flutua Aspetta, aspetta, aspetta Eh, dimmi, dimmi, dimmi Prima di andare Distruggiamo le scale Perché io da qui non me ne vado più via E nessuno deve raggiungere sto posto Ferre, io non ho un piccone Né anch'io E allora con le spacche Con i denti Allora, se arrivano Gli avversari, nemici Quello che vuoi Li picchio Va bene? Ok, a posto A posto Possiamo andare Possiamo andare Fammi vedere la mappa Ok Ok, sì, era corretta Guarda, finisci questo posto E arrivi perfettamente qui Ferre, ma ci sono delle persone Oh no Qualcuno l'ha già trovata, Steph? No, Ferre, credo siano gli abitanti di questo villaggio Ah, sì Sono fatti di diamante Ma che brutto Oh mamma mia Steph, aiuto Allontanati Che brutto Perché gli occhi a rana, scusami Ho una teoria È talmente fisato con i diamanti Che a furia di guardarli lì si sono ingranditi gli occhi No, Steph, allora non li guardare troppo Che poi diventano E' la maledizione del diamante su Minecraft Vabbè Prova a parlarci Vediamo se ha qualcosa da dirci Ok Allora Salve Benvenuto nel nostro villaggio di diamanti Ok È già interessante Come puoi vedere Abbiamo costruito enormi strutture fatte di diamanti Sì, lo vediamo bene E li ho visti bene Li ho visti bene In questo villaggio amiamo alla foglia di diamanti E noi stessi siamo fatti al 90% di diamanti di prima qualità Allora, Steph Ci sgobbiamo pure l'oro, eh Ferre, non puoi rubare l'oro, è rapimento Scusa, solo perché un diamante è parlante Vuol dire che non te lo puoi portare a casa Allora Anzi, ancora meglio, Steph Ancora meglio Rubare gli diamanti è un crimine Rapire le persone è un crimine è ben peggiore Ma hai fatto al 90% di diamanti di prima qualità, Steph Di quei livelli Ferre, non importa 90% Steph Andiamo avanti Questo posto è meraviglioso Grazie E anche tu lo sei Anche tu Sentiti libero di visitare il villaggio Oh, che bello Non vediamo l'ora Ma non toccare nulla Ferre Possiamo anche essere ricchi Ma sappiamo esattamente quanti diamanti ci sono E si è messo a contare 1, 2, 7, 56, 729 15, 032 Esatto Sono 15, 032 diamanti Eh Ma la risposta è quella giusta È quella che avevo in mente Tu sei matto Sì, anche perché si è messo a contare adesso Non lo so È davvero Questo che è un po' fuso Grazie E con il nostro meraviglioso villaggio diamantino in cielo Ma come non devi dire grazie Non si dice grazie Non si dice grazie Non è un complimento essere matto Vabbè, la cosa buona almeno è che non sono pazzi Nel senso brutto della parola E che quindi non sono stili E ci permettono perlomeno di visitare il villaggio Tanto qualcosa Steph Secondo me se la si può intascare comunque Andiamo Non credo Secondo me sì Secondo me sì Allora Io direi prima una parola Allora Ferre Cioè, ma hai capito Sono i vari oggetti in diamante Oh, cavolo Allora È il metto in diamante Voglio vederli tutti Cesti in diamante Cesti in diamante Mela di diamante Spada di diamante Lingotto di diamante E il diamante classico Tutti fatti a casa Sono tutte delle cavolo di case Ferre È bellissimo C'è uno che si fa il bagno nella fontana È notato Steph Ciao, ti stai divertendo Poi, voglio provare anch'io Magari è divertente Steph È un altro matto questo, eh No, ma qui si respira Steph Perché? Vieni, è aperto Ah Ci sono dei diamanti sopra Che ti permettono di respirare Esatto E quindi stai qui davvero a farti il bagno Steph, mi fa un po' porra Quello che ci sta fissando lì sotto Con quegli occhi Allora Usciamo fuori Ma non male che siete brave persone No, ne fatti al 90% di diamanti Fatti al 90% di diamanti Di ottima qualità Di ottima qualità Partiamo da questo elmetto? Sì Vediamo cosa c'è dentro ogni edificio Sì, assolutamente sì Toc toc Possiamo entrare? Buongiorno Allora, giustamente Questo qua ha un elmetto Però Ci guardi in faccia, amico? Perché gira ogni volta che prova a guardarlo in faccia? Perché gli occhi sono coperti Steph Dall'elmetto Dovresti abbassarti un po' gli occhi Non va molto bene per te, no? Sì, ti fa Sei un po' brutto Vabbè Ci provo a parlare Non c'è nulla di meglio di un bel elmetto in diamante Siamo d'accordo Ne possiamo prendere uno da qui? Beh, dimmi tu, no? Perché noi siamo d'accordo che non c'è nulla di meglio Quindi se vuoi ne prendiamo uno Per dimostrare che anche noi li amiamo Ferri, tu che dici? Non lo so Secondo me non si offende, no? Dai, prendiamoceli Eh, cioè È così Scusami Ferri Grazie E ce lo mettiamo pure Guarda Esatto Quello ha detto lui che non c'è nulla di meglio Stiamo un attimino testando se è vero Esatto, esatto Siamo d'accordissimo Non c'è davvero nulla È meglio Sto meglio di prima Perché ho l'elmetto in diamante Quindi Grazie mille amico nostro Andiamo a vedere gli altri posti Ok, chiudiamo Ma Perca miseria Chiudi la porta Allora Posto numero due La corazza in diamante Ok Questa sembra già una casa anche più grande Ecco qua Ecco qua Con questa armatura nessuno mi può sconfiggere Siamo d'accordo E dato che anche noi non vogliamo essere sconfitti Esatto Tanto voi ne avete tante Avete ben 15.032 diamanti Esatto Quindi dai Ve ne fate quanti mi pare Non è un problema, giusto? Amico, sei d'accordo? Possiamo andare? Sì, sono pacifici Molto bellina questa casetta Molto, molto carina Questa mi piace molto Ma anche da fuori è molto bella la chest così È bella Sì, sì, sì Questa è molto figa Ok Dopodiché Oh no, non cadere Steph Ma non cadono Vivono qua da cent'anni E qui che guarda il panorama Sono abituati Con i loro occhi giganteschi Allora, quindi mela di diamante Sappiamo tutti che la mela di diamante non esiste su Minecraft Quindi sono molto perplesso riguardo questa costruzione Chissà che troveremo dentro No, perché magari l'hanno inventata loro Può essere Non lo so Eh sì Tu non sai che può succedere in tutta la città di diamanti Vieni Ok Ok, allora ci sono due tizi È pieno zeppo di cibo Ok E lo, e lo E questo dice Mi spiace, sono occupato Sto studiando una ricetta per creare una mela fatta di diamante Quindi non sono riusciti ad inventarla Eh no, infatti Ma ci stanno provando Guarda Steph Hanno tutti i tipi esistenti di cibo su Minecraft Quindi si vede che proprio chiaramente stanno studiando qualcosa Staranno cercando di capire Vedi? Qua c'è anche la mela d'oro classica incantata Probabilmente cercheranno di capire come si fa poi in diamante Probabilmente vogliono mixare la mela d'oro Con qualche alimento nella speranza di riuscire a farla diventare di diamante Oh, magari ci riescono Fateci una telefonata se ci riuscite Eh sì, ci farebbe comodo Per certe battaglie farebbe davvero comodo Ok, vabbè Possiamo andare al prossimo posto Anche perché mi sembra un po' troppo affollazzo sto posto Evidentemente gli studi li portano avanti diversi di loro Quindi ci si impegnano tanto Allora, la mia preferita comunque Te lo volevo già iniziare a dire è la spada Cioè Ma questa non è una vera e propria casa È una piccola grotta, Ferre, guarda Sì, 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 sì È bella, eh Questa è davvero, davvero bella Guarda, c'è il tipo con la spada Allora Non esiste Spada Spada è una spada? Sì, l'abbiamo capito che è una spada Più forte di questa Più forte di questa E' emozionato chiaramente Questo è un po' più matto degli altri Sì, sì, sì Beh, allora amico Siamo d'accordo con te E per difendervi nel caso in cui arrivi qualcuno Una bella spada di diamante Giustamente Ce la prendiamo anche noi È d'accordo, sì Perché comunque ha ragione Non c'è spada in assoluto più forte di questa Spada più una spada Spada più una spada più forte Spada più una spada più forte Bisogna parlare come lui, Stef Perché se no magari non ci comprende Spada, una spada più forte Di questa spada Devi ripeterlo Se lo ripetis Aspetta, io mi intrippo Spada, una spada più forte Ok Come ho detto era chiaramente emozionato Probabilmente sai cos'è? Non sono neanche abituati ad avere ospiti È normale, Stef È probabile Però Fere, oltre alla mela di diamante Un'altra cosa che non può esistere È l'ingotto di diamante Quindi anche qua Che cavolo c'è? Staranno studiando anche questo? Permesso? Fere? Vieni, vieni, vieni Sbaglio o non c'è nessuno qua? No, no Non c'è nessuno Interessante È un posto semplicemente Strapieno di diamanti Di blocchi di diamanti Di blocchi di diamanti In una maniera assurda Sì, assolutamente sì Però non c'è nessuno Lo so Forse sono talmente concentrati A studiare la mela Che magari l'ingotto L'hanno lasciato un po' in disparte In questo periodo Non lo so Non ne ho idea Però purtroppo Non abbiamo preso Il piccone di diamante Perché non c'è la costruzione Il piccone di diamante Se è stata la più utile Forse non l'hanno messa di proposito E quindi non abbiamo potuto derubare Questo ci saluta e basta E rimane soltanto Il minerale di diamante Classico Ok, allora Salve Ne sta tenendo uno in mano Lui nello specifico Cosa c'è di meglio Di un bel diamante? Cento diamanti Questa è la filosofia Che segue anche Ferri Secondo me, vero? Sì, sì Signor Maielino poi specialmente Signor Maielino specialmente Guarda È altissimo Qua ed è pieno di diamanti Ed è pieno Bello Bello Allora, anche qui A me viene da dire che Siamo d'accordo con lui No? Giusto due Dai Mi sembra giusto Mi sembra giusto così Allora A questo punto Abbiamo visitato tutto Ok Ma secondo me Ok Ho notato che parlano Quelli che stanno fermi E io ho notato Che questo tizio È rimasto ancora fermo Ad osservare quello che si fa al bagno E quindi secondo te È qualcosa di strano? Da dirci? Questa fontana è magica E grazie ad essa Se esiste un villaggio Con così tante ricchezze Ma non devi dire però I segreti del villaggio Agli estrani Potremmo essere persone malintenzionate Cioè Persone come Ferri Che vogliono rubare tutto Non va bene sta roba Dovete fare Ma per fortuna Non è capitata Una persona come Ferri Certo Stef Ho appena fatto l'occhiolino Giusto per fartelo sapere E quindi E quindi Cioè io vorrei capire Perché questa fontana È la loro fonte di ricchezza Cioè che cosa fa di particolare Tu hai detto Ci ha detto cose Ma in realtà Non è andato nei dettagli Quindi ok Sappiamo che questa fontana è magica Diciamo che ti stuzzicano L'attenzione Per poi non darti nulla Non darti nessuna informazione Io infatti stavo un attimino Guardando intorno Ma no Ma non vedo nulla di che Cioè è bella come fontana Perché è diamante Bella bella Assolutamente sì Però non ci vedo nulla di magico Ci deve essere un segreto Per cui funziona qualcosa Magari c'è un passaggio segreto Ma se proviamo a scavare sotto Non abbiamo un piccone Ma la terra No Ferri Perché Caschi di sotto Ah beh Vabbè no È abbastanza profonda come città Non lo so Non rischierei Non è che magari in giro nella città Troviamo qualche indizio Qualc'è del genere O forse Beh non credo Sono così stolti Esatto Fanno in modo di non fartelo scoprire In nessun modo giustamente Io ho una teoria Perché comunque devono difendere Cosa si fa nelle fontane Nella vita reale Fere Il bagno Si tirano le monete Le monete I diamanti Tiriamo un diamante Esatto Ma se quello perdo Steph tira il tuo Ok Non si sa mai Sai com'è Potrebbe È soltanto un tentativo Sarà Cioè io ci provo Vado Vai È rimasto almeno È lì nell'angolino Quindi sì Mi sa che non sta succedendo niente Steph Non credo funzioni È espresso però il desiderio Se no non funziona No Allora è quello il problema Ma io non ho desideri Fere Ma come non hai desideri Devi desiderare tanti diamanti E allora appariranno Ma solo tu li desideri Ma tu li desideri talmente tanto Che hai paura di lanciare il tuo E di perderlo Sì perché i desideri Non sempre si avverano Lo so Sono un po' speranze Però eri l'unica con la forza di volontà sufficiente Nel caso a far funzionare Proprio come l'oro Tu adori a sufficienza i diamanti Però per me non è così Magari gli chiedo se mi prendono a vivere qua Forse no Perché non ho gli occhi così grandi Steph Beh credo che quelli ti diventeranno A fuori a riguardare i diamanti No non voglio gli occhi così grandi E allora è meglio che torniamo a casa Mi accontento di quelli che si trovano Sul mondo normale di Minecraft Allora Comunque ci voglio tornare Steph Dobbiamo scoprire il segreto Va bene Prima o poi torneremo Magari dopo che abbiamo studiato bene La scienza dei diamanti Ok Ovviamente è una scienza molto famosa Torniamo e scopriamo che cavolo succede in questo posto O li sterminiamo e lo scopriamo lo stesso Scegli tu Va bene Preferirei la prima